Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti con questo primo appuntamento della giornata con l'informazione di FanoTV, ovvero sia occhio ai giornali, sfoglieremo i quotidiani in edicola questa mattina però, come sempre, previsione del tempo e santo del giorno. Oggi sabato 9 gennaio, San Domenico Savio, il sole sorgerà fra pochi minuti alle 7.41 e tramonterà alle 16.49. E allora guardiamo con l'ausilio della nostra postazione meteo che temperatura c'è in questo momento su Fano, ci sono 5 gradi e 3 e un'umidità del 91%, vedete l'immagine della webcam eloquente è ancora buio, il sole ancora deve sorgere. Previsioni per la giornata di oggi, cielo parzialmente nuvoloso, nuvoloso, addensamenti nelle zone interne, aumento generalizzato della copertura su tutto il territorio nel corso del pomeriggio e della sera, come vedete anche presente le precipitazioni, brevi piovaschi sparsi però sui rilievi, in particolare quelli settentrionali domenica 10, il cielo è poco o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti nelle zone interne, vedete lo schema più o meno è lo stesso e non si escludono isolati piovaschi, sempre però a ridosso dei rilievi nottetempo, quindi nella nottata, nel pesarese, temperature stazionarie e in lieve aumento. Vediamo come si presenta all'inizio della settimana entrante però, quindi lunedì 11, cielo nuvoloso con locali schiarite, quindi forse migliorerà, però vedete la simbologia della pioggia è presente ancora nella nostra provincia, piogge sparse, aree di ossi dei rilievi e quindi non si escludono isolati fenomeni nel resto del territorio. Andiamo sui giornali, il Corriere Adriatico questa mattina nella sua edizione digitale non era disponibile, quindi guardiamo Messaggero e Resto del Carlino e partiamo proprio dal resto del Carlino perché la sanità è molto presente sui media in questi giorni per diversi motivi, non soltanto città di Fano e di Pesaro, interessate, ma tutto l'entroterra e oggi è una giornata calda da questo punto di vista, vediamo perché i sindaci cercano una vera unità, va cambiato il piano sanitario e confronto a Orciano, Talè dice del PD Ceriscioli ha sbagliato, ma vedete nella foto il sindaco di Urbino Gambini che ha voluto un confronto tra l'Unione dei Comuni con la partecipazione anche di esperti per cercare di bloccare il provvedimento e che vede appunto i comuni, gli ospedali dell'entroterra fortemente penalizzati per praticamente la chiusura dei pronti soccorso, insomma quindi grande preoccupazione, vedete qui i protagonisti, insomma Talè, Francesco Baldelli, Vincenzo Mei, insomma tutti i sindaci dell'entroterra oggi si vedono appunto a Urbino per fare il punto della situazione e anche a Fano naturalmente si parla di ospedale, Fano affida la linea al sindaco Seri che difende il Santa Croce e rilancia la proposta di Chiaruccia come sito, la maggioranza è compatta sulla posizione anti Marche Nord perché insomma il sindaco di Fano aveva detto che se le condizioni non sarebbero cambiate era pronto a uscire da Marche Nord e su questo c'è stata anche una replica dell'ex sindaco Aguzzi che poi vedremo in un'altra testata, quindi linea del comune è pari dignità con Pesaro e l'area vicino all'A14 per il nosocomio unico, quindi questa è la linea che mantiene il sindaco di Fano Massimo Seri, però anche il freddo e le temperature che hanno portato le gelate sulle strade nelle ore seguenti all'epifania sono stati in momenti insomma abbastanza particolari con diversi incidenti in tutta la provincia non solo quella di Pesaro ma anche di Ancona, allora il generale inverno, insomma il lancio del resto del Carlino, capitomboli per il ghiaccio, 40 persone sono finite in ospedale, strade di Pesaro come lastre di vetro, polemiche per il sale, qui vedete nella foto l'incidente che si è verificato alle porte di Pesaro vicino all'istituto alberghiero Santa Marta e questa è una macchina spargisale, dal gelo ai 15 gradi nel weekend è un gennaio da pazzi, quindi insomma c'è stata veramente un'escursione termica notevole, si è passati da sotto zero appunto a ben oltre i 10 gradi, quindi con un tempo che veramente è un po' instabile da questo punto di vista. Andiamo nelle pagine del resto del Carlino per quanto riguarda Fano, si parla in apertura del Natale, si è tirata un po' la summa di quello che è stato, tutto il movimento legato al Natale, i 40 giorni messi in piedi da Proloco, amministrazione comunale, confessecenti, commercio e comitato, tutti i soggetti che erano partecipi in questo progetto. E allora vediamo, il Natale ha fatto un botto di presenze ma non di incassi, bilancio alberghi pieni ma negozi vuoti e l'albero in piazza ha fatto il giro del mondo, quindi l'albero della discordia, quello che ha causato un po' di atribe sempre tra chi voleva un albero tradizionale e chi invece voleva un albero innovativo, perlomeno artistico, particolare come questo ha diviso un po' le prime ore prima del via degli eventi, però pare che questa scelta sia stata una scelta fortunata, una scelta che ha portato tante presenze a Fano, curiosità tra curiosi e tra amanti di questa tipologia di albero, però fatto sta che Fano è stata al centro dell'attenzione, vedete nella foto del resto del Carlino sotto l'albero appunto con i protagonisti e anche i modellini, sono stati un bel viatico per questo albero, più di 3.000 venduti e che sono serviti a far viaggiare l'immagine di Fano non solo in Italia ma anche nel mondo perché sono stati regalati. Poi si parla di lotteria, in testa di pagina il biglietto da 2,5 euro e rischi di portarti a casa un automobile, è stata presentata ufficialmente ieri appunto la lotteria del Carnevale 2016 che insomma acquistando il biglietto si fa anche un'opera di solidarietà per la mensa di San Patreniano e poi insomma si può vincere naturalmente una bella automobile, cosa che non è affatto sgradita. Continuiamo nelle pagine del resto del Carlino, si parla di politica e di una protagonista che è stata sempre presente in Consiglio Comunale, Maria Antonia Cucuzza che lascia il Consiglio dopo dieci anni, l'esponente di Forza Italia regionale e ragioni naturalmente personali legati a questa sua scelta. E poi importante iniezione di soldi per riportare, insomma qui dice resuscitare i cimiteri per ammodernarne diversi e fare grosse opere di manutenzione su altri e quindi l'importo è questo di 765 mila euro e tutto questo avverrà nel 2016. Ulivo, Bellocchi e Ferretto sono i cimiteri interessati in maniera particolare quello di Bellocchi che vedrà anche un nuovo padiglione. Inizio entro giugno ma si completteranno, hanno detto i tecnici e l'assessore Fanesi, entro il 2016 i lavori appunto di rimessa un po' a nuovo dei cimiteri. E poi si parlerà di ambito territoriale, un incontro di giovedì prossimo e in basso anche si parla della caserma. Pollegioni di Fratelli d'Italia chiama in causa il sindaco, caserma conta più la speculazione edilizia. L'ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Carlino per quanto riguarda Fano si parla di Grizzly. I grillini vanno all'attacco per questa vicenda ma l'occupazione abusiva è un titolo preferenziale e questa è la domanda che pongono. Siluro alla giunta tagliate fuori altre associazioni da questa sede, da questo luogo. Guardiamo la testata del messaggero, naturalmente partiamo dalla prima pagina, in testa si parla della fusione delle camere, le camere di commercio, camera unica, Pesaro lancia la sfida e un messaggio ad Ancona e poi paura a Cantiano dove la terra torna a tremare, la scossa registrata ieri è stata avvertita da numerosi abitanti e poi tesoretto nel furgone, questo lo vedremo nelle pagine interne, il meteo dice un weekend primaverile e appunto si parlava giusto appunto di temperature con un'escursione termica notevole, siamo oltre i 10 gradi. Allora vediamo l'articolo di apertura e questo si va verso l'unione appunto di due camere, quella di Ancona e quella di Pesaro, il futuro ente Marche Nord e gli attuali vertici rivendicano un presidente pesarese e anche la sede e Drudi elenca le priorità da portare avanti nei prossimi mesi che sono appunto le infrastrutture, la fiera, il porto, il turismo, l'aeroporto e l'e-commerce. E poi nella pagina di Pesaro si parla anche di cultura, il vice sindaco Vimini dice fondazione cultura valorizzeremo l'oliveriana e respinge gli attacchi dell'opposizione, è il primo caso in Italia. E poi comune oltre 110 mila, sì, scusate, visitatori per il Natale in piazza, questo era l'albero spento naturalmente di Pesaro in piazza del popolo, però comunque sono arrivati oltre 110 mila visitatori per vedere la piazza di Pesaro abbellita per il Natale. Maxi risarcimento ma è Vittoria Beffa, di che cosa si parla? Si parla di un paziente che dopo dieci anni ha avuto il riconoscimento di un risarcimento oltre un milione, che cosa era successo? Aveva contratto l'epatite C, però il ministero non ha i fondi. Il legale del paziente dice è vergognoso, andremo avanti, continueremo nella nostra battaglia per avere ciò che è dovuto. E poi è avvenuto questo episodio a pochi passi dallo stadio Benelli, nel quartiere Montegranaro. I ladri abbandonano un furgone, la polizia lo apre, guarda cosa c'è dentro e ha scoperto un quasi tesoretto. E poi l'episodio del furgone era stato contraddistinto all'inizio da un altro episodio. Loro entrano in questa casa, da un balcone, tagliano con il frullino, con il flessibile, la cassaforte, ma per poco non gli va a fuoco tutto. Perché il frullino lascia delle scie di fuoco e quindi se le tende sono vicine. Quindi i ladri un po' maldestri. Si parla di sanità ed ospedale anche nelle pagine del messaggero. La regione gioca d'anticipo, quindi Ceriscioli che cerca di andare al contrattacco. Era prevista per il 13 una riunione della Commissione, ma è stata convocata di tutta fretta per lunedì, quindi anticipando di due giorni. I sindaci vanno in pressing su Ceriscioli per strappare un dietrofronto e la delibera va modificata. E intanto a Cagli, uno degli ospedali dell'entroterra, anche questo che si avvia verso un depauperamento della sua attività, Cagli, i medici e personale ospedaliero vegliano sulla sorte già scritta delle celli. A loro spetta il compito di informare i pazienti sulle discusse decisioni. Quindi presidiano il loro ospedale, lo vedete qui nella foto. E anche nel messaggero viene riportata la notizia che oggi si riuniscono gli amministratori dell'area vasta, forti critiche anche dai sindacati. E poi si parla di trasporti, la CISL rilancia la tratta Fano-Urbino, si parla della ormai tanto citata tratta ferroviaria Fano-Urbino, quindi loro spingono per il ripristino della tratta ferroviaria e poi torna il Galà dello Sporti in provincia, quindi per incoronare il meglio degli sportivi del territorio. Ultima pagina, vi faccio vedere quella di Fano, anche qui naturalmente Santa Croce va ridotta la forbice, pari dignità con il San Salvatore. Ecco vi dicevo i commenti di Aguzzi, ieri la tua Fano ha fatto una conferenza stampa dove ha contrattaccato sulla dichiarazione di Seri per uscire da Marche Nord. Aguzzi dice la scelta è stata una scelta felice invece e se non avessimo fatto questo ora il Santa Croce sarebbe ancora messo peggio di quello che è e il PD non ha rispettato i patti che aveva preso all'epoca, patti di pari dignità di sviluppare equamente i due presidi ospedalieri in attesa dell'ospedale unico al di là della sede e al di là del luogo dove questo avverrà. E poi si parla appunto di Natale, Natale più soddisfa tutti e si rilancia anche per la prossima edizione, cimiteri in degrado stanziati i fondi e vi ricordo che questa sera in cattedrale ci sarà la veglia dedicata alla pace. Bene questa era l'ultima pagina che vi proponevo, grazie per essere stati con noi, naturalmente questa sera occhio alla notizia alle 20.30 e poi i giornali torneranno lunedì mattina alle 7.30 puntuali. Grazie per essere stati con noi, buona giornata e buon fine settimana a tutti voi.